Adio Maria, piena di grazia, Signore d'Otto, e benedetto al frutto del profuscio di Gesù. Adio Maria, piena di grazia, Signore d'Otto. Tu sei benedetta a frutto di notte, benedetto. Quante conquiste e traguardo ha incesellato da evitare un racconto, e quanta natura ha attraversato e ha respirato. E tutto ciò, anche una risposta e reazione da lunghe sconfitte, e momenti no, che capitano e vengono per tutti. Perché le conquiste sono sempre il segno anche di una debolezza, di una facilità, di alcune sconfitte che ti portano a rialzarti. E, ancora di più, è sempre andare più avanti, per osare di più e per tirar fuori il meglio di sé. La tua vita è stata una borsa. Quanti chilometri. Corre, chi ha una mente da raggiungere. Corre, chi ha una strada da percorrere. Corre, chi ha un messaggio da portare. La tua vita si è fermata tra i tuoi uomini, le tue vie. Le più conosciute, le più amate. E anche tu, come Gesù, come i nostri cari, spai dalla loro vista. Ma per essere presenti in modo nuovo, a tutti, ci auguriamo che ci sia questa percezione di sentire i nostri cari in modo nuovo, nella luce del risorto e nella comunione che attenderemo di poter vivere anche noi. Con te e con tutte le ragazze e i ragazzi, ora donne e uomini, assieme agli addetti ai lavori e con la supervisione del nostro indimenticabile Presidente del Team Bianchi, MTB, Felicesi Mondi, ho passato uno dei periodi più belli della mia vita. E di questo ve ne sono grato. Non so da dove si guardi, però anche oggi, come allora, siamo qui per fare gruppo, per renderti questo ultimo e meritato omaggio. Con la consolazione che te ne sei andato, facendo la cosa che più ti piaceva, cavalcare la tua amata mountain bike, sui sentieri di casa, che sin dai tuoi primi colpi di pedale ti hanno visto passare. E dove hai costruito, con molti sacrifici, i tuoi numerosi successi. Ora, Lario, la terra dei tuoi sentieri ti sia lieve. Fai buon viaggio. Veglia su tutti i tuoi cari e anche su di noi. Mi raccomando, salutaci tutti i ciclisti e tutti gli amanti del nostro sport, che sicuramente incontrerai il Paradiso. Ora, come quando ti applaudivano sul podio, dopo un tuo successo, ti facciamo il nostro applauso. Grazie. 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 Grazie.